Grazie Presidente, grazie a tutti, a voi ragazzi che conosco e che oggi ho conosciuto i nuovi giovani che stanno entrando in questo collegio, tutti visi molto belli, puliti e grazie cari colleghi della vostra presenza. Apriamo oggi l'anno accademico e con grande gioia, devo dire, con questa cerimonia noi rinnoviamo l'impegno dei cavalieri del lavoro nel collegio e a favore di un'eccellenza nella formazione dei giovani, basata naturalmente sul merito e sulla valorizzazione di tutti voi e del futuro di questa nostra nazione. In 40 anni di attività il nostro collegio ha sempre sostenuto la nascita di un'economia della conoscenza e ha contribuito a dare impulso a quella mobilità sociale che di per sé è motore di cambiamento e di sviluppo e ha così valorizzato chi è capace di migliorare e di porsi degli obiettivi nuovi e di creare ottenendo così dei grandi risultati. Questo vuol dire concorrere a riconoscere la fiducia delle generazioni più giovani nel sistema educativo che abbiamo e che è buono, che è ottimo direi, ed è un generatore di grandi opportunità secondo criteri oggettivi di valutazione dei risultati. È un modo di essere, di pensare dei cavalieri del lavoro, quindi è alla base del pensiero di chi ha lavorato per tanto tempo e chi ha fatto impresa, che nasce appunto dal rispetto del sapere e dal rigore dei comportamenti. E questo fin dalle selezioni, le selezioni che sono state fatte, che sono state fatte in modo rigido, rigoroso e importante. Il risultato di quest'anno sono 14 nuovi studenti che entrano da varie parti d'Italia, come al solito, in particolare di provenienza da regioni magari meno rappresentate quest'anno, per esempio. E i curriculum che voi avete sono veramente degni di nota, ma soprattutto la vostra determinazione, che è stata molto importante per noi, è il fatto anche della presenza di essere persone di un certo tipo. E quindi questa risponde anche a una voglia di affrontare un percorso sia universitario complicato, ma anche l'essere qua, perché questa non è una residenza, è un collegio, è un collegio universitario, perché qui si fa formazione e sempre di più sarà e sarà al centro dell'interesse sia della Commissione che di tutta la federazione. Il percorso appunto che vi proponiamo si incentra adesso, da rinnovanti, sull'internazionalizzazione delle vostre future esperienze di studio e anche professionali, e sullo stretto rapporto fra il collegio e le diverse realtà dei cavalieri del lavoro. Questo è un punto fondamentale di novità sul quale stiamo lavorando e lavoreremo sempre di più. È un rapporto che non vuole indirizzare il vostro percorso universitario e professionale, ma comunque, qualunque questo sia, è importante perché è ispirato a una cultura e ha un senso di responsabilità nel lavoro, nell'impresa e l'impegno per la valorizzazione dell'uomo e della donna, ovviamente, delle persone. Quindi tutto questo significa spirito di iniziativa, impegno per, appunto, una morale, una responsabilità sociale. Sono scelte coraggiose molto importanti, anche l'idea di mischiare persone provenienti da varie regioni, da varie studi e che andranno in università diverse, è un punto di forza di questo collegio. Il sapere concreto, in questo modo acquisito in questo collegio, vi consenterà di agire poi domani, forti di questa esperienza, sia nella vita che nella società, con la voglia e la consapevolezza di affrontare il vostro futuro, secondo canoni di servizio, perché è l'idea di mettersi comunque al servizio di un alto impegno e per formare una classe dirigente consapevole, appunto, delle proprie responsabilità. Quindi auguri a tutti per questo nuovo anno accademico, con tutto il cuore e mi raccomando, avanti tutta e per un lungo percorso, lungo, si va per dire, ma di cinque anni, in alcuni casi in medicina di sei anni, che sia proficuo per voi e con grande serenità e armonia, come voi comunque avete già dimostrato, almeno da quelli di voi che sono già qui da almeno un anno. Vi ringrazio e ringrazio tutti voi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.